Nome? Antonio. Alanagrafeloris. Nome? Antonio. Alanagrafeloris. Età? Sono entrato negli Anta, 40. Sempre lì 34. Professione? Fancazzista, a tempo pieno, realmente optometrista. Fisioterapista. Hai famiglia? Sì, è anche decisamente abbondante. No, la mia. Che moto possiedi? Un BMW GS 1250, quarantesimo anniversario. Un Transalp del 2006 e un Supertenere del 91. Da quanti anni guidi una moto? Dal 2016, quindi sono quattro anni. Cinque anni. Chi ha fatto più chilometri? Sicuramente Loris. Antonio. Di chi è stata l'idea del viaggio? Mia. Antonio. Perché hai detto sì? Era il momento di farlo insieme a Loris. Come fa di no ad Antonio. Chi è più simpatico? Sicuramente Loris. Antonio. Chi è più responsabile? Sicuramente Loris. Io. Chi parla il giapponese? Konichiwa. Mi hao. Questo è uno dei due, mi sa. Chi parla meglio l'inglese? Ah, sicuramente Loris. E' Antonio. Se si buca una gomma chi ci pensa? BMW Motorrad Assistance. Eh, il santino che porteremo con noi. Ti pidi della tua moto? Assolutamente no. E' lei che si fida di me. Per orientarti usi la cartina o sistemi tecnologici? Uso Loris. Uso la cartina, quella stradale. Con il sesso durante il viaggio come farai? Eh, questa è un'ottima domanda ed è un grosso problema perché con mia moglie abbiamo una media invidiabile. Quindi direi quando Loris dorme o ha autorodismo o uso Loris. Sono 34 anni che mi alleno a non farlo. Tutto in procinto di questo viaggio. Con quale personaggio famoso viaggeresti? Bella domanda. Direi con lo stesso che ha risposto Loris. Eh, ho letto sui social di un certo Scasserra. Sarei onorato di farlo con lui in viaggio. Dimmi tre cose indispensabili che non mancheranno nella tua valigia. Prodotti senza glutine. Prosecco e la foto della mia famiglia. Sapone di Marsiglia e lo spazzolino e il santino per la gomma. Fatti un augurio per questo viaggio. Se io stavo a casa a guardarmi Netflix secondo me sarebbe stato meglio. Di vivermi il viaggio.